Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! La liturgia di questa ventiduesima domenica vuole aiutarci a guarire il cuore e ci mette anche in guardia da un pericolo, ridurre la nostra fede a una fredda osservanza di regole e riti senza una profonda adesione a Dio di tutto il nostro essere. Andiamo al Vangelo. Da una parte abbiamo farisei e scribi, zelanti osservanti della legge di Mosè, dall'altra Gesù e i suoi discepoli, gente semplice che cerca di seguirlo. I farisei, da Farash separare, erano un gruppo nel giudaismo fatto da coloro che volevano essere totalmente di Dio, separati dal male, nobile intento. Per essere sicuri di farlo avevano elaborato una fitta serie di norme. Per mantenersi puri, cioè idonei al culto, non dovevano toccare determinate cose, non bisognava mangiare alcuni cibi, bisognava lavare se stessi e gli oggetti in un certo modo, facendo alcune preghiere e così via. Nel brano di oggi i farisei criticano i discepoli di Gesù, perché mangiano senza aver fatto le abluzioni, dunque questi lavaggi, che nella loro tradizione orale ritenevano necessarie per non contaminarsi e rimanere puri davanti a Dio, idonei a celebrare il culto nel Tempio. Queste norme dovevano custodire il rapporto con Dio, ma erano diventate una gabbia dell'amore. Ad esempio, il lavarsi le mani era un richiamo simbolico alla purezza del cuore. Il Salmo 26 dice, lavo nell'innocenza le mie mani, ma si era trasformato in un obbligo ossessivo ed esteriore, sganciato dall'interiorità, cioè mi lavo le mani e sono a posto. Gesù liquida queste abitudini come tradizioni di uomini e mette in guardia da un pericolo. Fanno perdere di vista il comandamento di Dio, ovvero l'amore, per lui e per gli altri. Mie cari, in fondo potremmo partire da questo. Tutti viviamo tradizioni popolari, religiose, varie forme culturali, abitudini personali. Il problema è, sono utili ad amare e servire di più Dio e il prossimo? Servono a vivere, a far vivere meglio o asfissiano? Più profondamente abbiamo qui un problema molto comune. Cercare di aggiustare la propria vita e risolvere la propria incompiutezza a suon di regole e abitudini, cioè osservo delle norme non per amare di più e meglio, ma per sentirmi a posto, in pace con la mia coscienza. In genere poi chi osserva delle cose per sentirsi giusto e ha poco contatto con la propria interiorità e la realtà della propria fragilità, finisce per sentirsi meglio degli altri e per disprezzare quelli che non osservano le medesime cose. Capite? Tutto ciò, anziché aiutarmi ad amare, mi rinchiude nel mio egoismo e mi fa perdere di vista l'essenziale. Facciamo un paio di esempi. Una persona osserva diligentemente il digiuno quaresimale, guai a mangiare un po' di carne il venerdì, cosa sana e giusta e buona, ma si sente a posto perché fa il digiuno quaresimale mentre non partecipa mai alla liturgia, non partecipa mai a messa, oppure sfrutta i dipendenti o nel frattempo si avvalla del caporalato di lavoro in nero. Facciamo un altro esempio, il liturgismo. Curare la liturgia è sacrosanto. San Francesco d'Assisi non voleva che si badasse a spese per ciò che era inerente il culto, ma vi sono alcuni iperattenti a pizzi, merletti, tricorni e quadricorni nel cappello, tanto rigidi in certe norme quanto incapaci di accogliersi nella propria fragilità e aver compassione degli altri. Ecco, qual è il punto, qual è il problema di fondo? Sentirsi sicuri. Certe abitudini, certe assolutizzazioni, in fondo il problema degli estremismi, qualsiasi lato vengano presi, è quello di sentirsi a posto, sentirsi sicuri. Da una parte c'è il lassismo che alla fine vive sganciato da ogni norma, tanto Dio è buono, tanto fa niente, tanto vivi e lascia vivere. Reazione opposta il tradizionalismo, quella rigidità sfissiante che cercando di custodire come in un museo le cose finisce per portare avanti i contenitori vuoti. Capite, in fondo a livello personale è il problema del cercare di risolvere la propria fragilità fissandosi su delle pratiche per lo più esteriori, ma non è lì che si redime la nostra vita. Le sane abitudini aiutano, ma è solo nel contatto con Cristo che possiamo essere salvati. Abbiamo anzitutto bisogno che crolli la nostra falsa immagine di perbenismo di persone compiute, precise, puntuali, solo lasciandoci amare nella nostra fragilità, solo lasciandoci perdonare dei nostri peccati, solo accogliendoci per ciò che realmente siamo può sgorgare una vita nuova. Dio ci ama per ciò che siamo e vuol trasformarci in ciò che ha sognato. Solo la parola di Dio e il suo santo Spirito possono dissodare la terra del nostro cuore affinché nascano autentici frutti di santità. Ed ecco perché Gesù per aiutarci a concretizzare muove un rimprovero e poi aiuta a mettere in chiaro un punto, anzitutto il suo monito. A chi si fissa su delle regolette esteriori ma nel frattempo coltiva il male nel suo cuore dice ipocriti. Onorate Dio con le labbra ma il vostro cuore è lontano da lui. La parola ipocrites a quel tempo non aveva il senso morale che le diamo oggi. L'ipocrita era l'attore di teatro, colui che faceva la parte, che si presentava in scena con la maschera. Oggi potremmo dire il commediante. Ecco Gesù muove un rimprovero, voi state facendo la parte, fate finta di amare Dio, ce l'avete sulle labbra ma il vostro cuore è ben lontano. Non cercate di glorificare lui e di servire il vostro prossimo, cercate di glorificare voi stessi. Si può pregare miei cari, si possono dire parole buone, si possono fare bei discorsi ma il problema è il cuore dov'è? È davvero un cuore che cerca la gloria di Dio, che ama, che fa le cose per amore o stiamo cercando noi stessi in ciò che facciamo? È chiaro arrivare ad un servizio gratuito, ad un amore totalmente disinteressato è un cammino ma vedete il pericolo serio è quello di pensare di camminare mentre invece si fa la parte rimanendo bloccati nel proprio egoismo. E si può essere egoisti in molti modi, uno dei peggiori è l'egoismo che si maschera di religiosità. Cerco di essere bravo e pio perché mi chiamino zio, diceva qualcuno, faccio la faccia da santino per sentirmi bene perché gli altri mi osservino. In realtà, diceva San Francesco, ognuno è ciò che è davanti a Dio e Dio ci vuole persone, non maschere. Ed ecco poi in conclusione un insegnamento profondo di Gesù. Guardate, ciò che rende impuro l'uomo, ciò che non lo rende adatto a Dio, ciò che guasta la sua realtà più profonda, il suo cuore, non è ciò che entra dalla bocca. Il problema non è ciò che mangi, è ciò che coltivi nel tuo cuore. Vedete, una tendenza di ieri come oggi è quella di identificare il bene e il male con le cose. Pensate in quante culture, alcuni animali sono considerati sacri, altri sono considerati ancora immondi, è diciamo una concezione elementare per cui mi sento a posto se ho contatto o meno con delle cose. Chiaramente non tutte le cose ci fanno bene, ma qui il piano è più profondo. Gesù ci dice che tutto ciò che ha creato Dio è buono, che tutti i cibi sono buoni e che il male non è nelle cose, piuttosto potremmo dire il principio del bene e del male nel cuore dell'uomo. Ciò che guasta la vita non sono tanto le cose esteriori, ma è ciò che coltiviamo nella nostra interiorità. Vi faccio un esempio. Una persona non trovava il suo rastrello, lo cercò dappertutto nella sua fattoria e niente, non lo trovò. Ad un certo punto passò il vicino di casa, lo guardò e iniziò a pensare. Eccolo lì, guarda, guarda, guarda come cammina, guarda, fa finta di niente, guardalo, te lo sei fregato tu, ma prima o poi ti becco, lo troverò e allora vedi che ti combino. Dopo qualche giorno trova il suo rastrello nel fienile. Inavvertitamente gli era caduto e in mezzo al fiero non lo aveva visto. Dopo un po' ripassa il suo vicino, camminando esattamente allo stesso modo, lui lo guarda e pensa nel suo cuore. Ah, che bravo vicino che ho! Veramente ad averne vicini così è proprio un dono di Dio. La morale è chiara. Gesù sa che dal nostro cuore può uscire un bene meraviglioso, ma anche un abisso di male. E la sua descrizione di ciò che rende davvero impuro il nostro cuore, cioè che ci rende incapaci di accedere a Dio, inadatti a Lui, è quasi come un macigno, una serie di dodici vizi che vogliono portarci ad averne fastidio, perché vedendolo e riscoprendolo in noi possiamo rifiutarlo. Anzitutto parla di progetti malvagi, il pensiero cattivo, le azioni sono solo l'atto ultimo di qualcosa che già si è coltivato nel cuore. Quindi dodici parole, quasi un crescendo di nefandezze, fornicazioni, ovvero uso cattivo del proprio corpo e della sessualità, quindi furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, infine stoltezza, posta all'apice che sembra quasi racchiuderli tutti. La stoltezza, la stupidità è propria di chi scambia il male per il bene e il bene con il male, che addirittura arriva a rifiutare Dio pensando di poter trovare e realizzare un bene più grande senza di Lui. Tutto ciò ha la sua radice nel cuore. Perciò facendo nostre le parole del Salmo 50 vogliamo pregare insieme dicendo crea in me o Dio un cuore puro. A questo vogliono condurci le parole di Gesù, a liberarci dal male che è dentro di noi perché lasciandoci amare e lasciandoci guarire. Possiamo vivere un rapporto con Dio e con gli altri più libero e più liberante. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!